Il regolamento dei nuovi consigli di quartiere, un regolamento che ha fatto subito discutere, non appena stato annunciato dal sindaco Ser Filippi e dall'assessore Santorelli, che ne è stato l'autore, in quanto cambia radicalmente rispetto al regolamento già approvato dalla giunta di centro-sinistra per la elezione dei componenti dei consigli. Allora, quali sono le vostre osservazioni? Questa è una delibera che abbiamo chiesto di poter in un certo qual modo anche approfondire, richiedendo il rinvio della votazione oggi in consiglio comunale, questo si è stato negato, non è stata coinvolta per niente la cittadinanza, figuriamoci l'opposizione per quanto riguarda le scelte principali di questo regolamento, ma soprattutto il punto e il nocciolo è tutto lì perché, contrariamente a quanto era già presente nell'amministrazione, un regolamento che prevedeva l'elezione diretta dei rappresentanti del quartiere, direttamente appunto dal popolo, con un'elezione di secondo livello, invece adesso i rappresentanti appunto dei quartieri saranno scelti per il 75% dal consiglio comunale, senza poter dare rappresentanza neppure alle minoranze perché sarà una scelta della maggioranza e per il 25% dalla sorte, dalla dea fortuna, in fondo siamo nella città giusta perché il 25% saranno scelti, sorteggiati tra coloro i quali faranno domanda di ambizione e questo è secondo noi un errore molto importante perché qui si passa, si inverte se volete il paradigma, si passa dalla partecipazione al controllo politico da parte della maggioranza attuale della città nei confronti dei territori e nei confronti dei quartieri e questo non ci piace, poi ci sono tantissime altre cose che non vanno bene, però fondamentalmente questo è il punto principale su cui noi abbiamo preparato degli emendamenti come opposizione unita. Quali sono le vostre proposte? Prima di tutto tornare a una votazione diretta da parte dei nostri cittadini, c'è una diversa suddivisione dei territori, attraverso invece che farne 10 come questa è proposta, noi ci vorremmo avvalere della consolidata suddivisione in circoscrizioni del territorio, non c'è la parità di genere, non si capisce se un residente si può candidare in un altro quartiere, non si capiscono come verranno date le sedi, se ci saranno soprattutto le sedi, se ci sarà il personale che segue anche questa partecipazione e quali soldi dovranno questi quartieri gestire e poi si cancella del tutto quello che comunque sia, secondo noi è stato un gran successo, il bilancio partecipato a favore appunto di questa partecipazione, anzi controllo del centrodestra sulla città e sui quartieri. In commissione io ho chiesto al Presidente Costa, all'assessore Santorelli di rinviarlo, di 12 giorni perché il prossimo consiglio, come diceva Cristian, è il 30, ci hanno detto di no e la motivazione ha detto perché loro sono quelli del fare, io ho detto guarda che anche la gatta frettolosa fa i gattini ciechi, quelli del fare, aspettiamo due settimane e mettiamoci d'accordo, parliamone assieme. Altra cosa grave è che poi dopo nella capigruppo abbiamo richiesto ufficialmente di rinviarlo e il Presidente Cavalieri si è dimostrato verbalmente d'accordo e anche il capigruppo di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia verbalmente ci hanno detto d'accordo. Ieri poi c'è stata la riunione di maggioranza e alla sera il Sindaco ci ha comundicato che non veniva rinviata. Diciamo che Santorelli è molto molto forte in questa amministrazione. È stato un punto qualificante del programma della mia lista elettorale e dell'ultima amministrativa e per questo io non posso consentire a questa soluzione perché va contro quel principio fondamentale di consultazione libera dei cittadini, è una consultazione differita e delegata sostanzialmente al Consiglio Comunale e alla Dea Fortuna e noi volevamo invece che per avvicinare i cittadini alla politica, alla politica amministrativa, ci fosse una consultazione di cui magari bisognava verificare i costi. Per questo abbiamo chiesto un rinvio in questi giorni, di una decina di giorni, per ragionare un po' meglio. I Consigli di quartiere hanno senso così. In altro modo significa trovare degli accordi tra consiglieri comunali per radicare dei propri rappresentanti nei quartieri, quindi diventa un'altra cosa dalla libera elezione che è totalmente libera. Lì nasce la palestra anche per i giovani, ma se invece i rappresentanti sono affidati un po' al sorteggio e in gran parte al Consiglio Comunale togliere anche il bilancio partecipato mi sembra un passo indietro. È grottesco che tutte le critiche da parte dell'opposizione arrivino prima della discussione del Consiglio Comunale dove la stessa opposizione ha presentato più di 20 emendamenti. Prima ha detto che non c'era stato il tempo di analizzare il regolamento e di studiarlo e poi hanno presentato più di 20 emendamenti, hanno fatto comunicati stampa, hanno fatto conferenze stampa, quindi vuol dire che c'è stato il tempo per, dal loro punto di vista, fare tutte le critiche che addirittura fanno prima del Consiglio Comunale, che sono critiche pretestuose perché abbiamo pensato un regolamento che apre alla partecipazione totale della città. È proprio questo che fa male all'opposizione perché pensava che la partecipazione popolare fosse una loro prerogativa, mentre per anni non hanno fatto niente per intavolare i consigli di quartiere, per dare la possibilità ai cittadini di partecipare e stanno dimostrando, oltre di non aver saputo governare, di non saperne fare neppure opposizione.